Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti al primo appuntamento con Rete 8 speciale elezioni amministrative 2019, ciclo di tribune elettorali sotto legida del Corecom Abruzzo nelle quali metteremo a confronto i candidati sindaci delle principali città abruzzesi sulle 99 chiamate al voto il prossimo 26 di maggio. La prima tribuna è dedicata alla città di Pescara, sono state convalidate proprio in queste ore le candidature degli otto aspiranti alla guida della città, uno di loro sarà il successore di Marco Alessandrini. Il turno elettorale prevede la presenza di 515 candidati nelle 17 liste a supporto dei candidati sindaci, l'eventualità di un turno di ballottaggio il 9 giugno, qualora nessuno dei pretendenti riesca ad ottenere il 50% più uno dei voti validi. Questa è la normativa elettorale e noi dobbiamo innanzitutto ringraziarli tutti e otto i candidati sindaci di Pescara che vediamo nell'inquadratura totale che ci propone la regia di Andrea Di Fabio con la collaborazione di Antonio Dottavio per aver accolto il nostro invito e aprire quindi qui a Rete 8 la loro campagna elettorale. La formula è quella consueta della Parcondicio nella quale ci saranno tre minuti per rispondere alle mie domande. Ampio spazio su questa tribuna ci sarà anche sul quotidiano Il Centro nel numero in edicola domani mattina. Allora iniziamo subito, come si dice rompiamo il ghiaccio, abbiamo fatto un sorteggio inizialmente con l'ordine nel quale vi saranno le risposte alla mia domanda che sarà unica per tutti. Li saluto e li ringrazio tutti ma la prima domanda sarà appunto quella sulla presentazione della loro candidatura, della lista o della coalizione che sostiene ciascuno dei candidati alla guida della città di Pescara. Il primo è Stefano Civitarese, buonasera professor Civitarese che è stato assessore della giunta Alessandrini per un breve periodo di tempo, candidato di una coalizione civica che però insomma viene da un'area culturalmente di sinistra ma non soltanto. Allora Civitarese si presenterà sicuramente meglio lei sulla candidatura, sulla ragione di questa sua discesa in campo politica, insomma lei era stato un esperto in qualche modo, un tecnico nella giunta Alessandrini, ora c'è una connotazione diciamo di impegno elettivo rispetto alla quale lei si cimenta. Prego. Grazie, grazie direttore, buonasera, buonasera alle spettatrici e ai telespettatori. Sì certo, in parte la mia candidatura deriva da quell'esperienza avuta per un anno e mezzo nella giunta Alessandrini nella quale avevo cercato di impostare una sorta di piano strategico per rilanciare la città verso un motto che poi noi abbiamo ripreso con coalizione civica che è per una città della conoscenza e del benessere. Coalizione civica nasce dal basso, credo che sia la vera novità di questa tornata elettorale, nasce dal basso attraverso cittadini, formazioni sociali appartenenti o meno a formazioni politiche che hanno sentito proprio l'esigenza di avviare un cambiamento profondo negli obiettivi che questa città deve darsi, nell'ambito naturalmente dell'area metropolitana di cui Pescara è indubbiamente il cuore, ma anche nel metodo di fare politica, nel metodo di costruzione di una serie di obiettivi che siano di grande rilancio, di rigenerazione della nostra città che appunto punti a far sì che davvero la politica dopo circa 20 anni prevalentemente di amministrazione del centrodestra, l'ultima amministrazione di centrosinistra non è stata in grado di cambiare le sorti dello sviluppo della nostra città verso obiettivi di grande ambizione, perché Pescara ha i numeri, ha tutte le possibilità per diventare una grande capitale del medio adriatico, purché si cambi passo. Cambiare passo significa avere soprattutto a cuore, e questo è un po' l'elemento che innerva la nostra proposta politica, una rigenerazione a partire dai temi ambientali, dei temi ambientali, dei temi della mobilità sostenibile, ma non solo, perché il secondo elemento che costituisce un punto di forza secondo me della nostra coalizione è quello dell'attenzione ai diritti sociali, a una città solidale, a una città aperta che è nella vocazione di Pescara, che guardi a un modello policentrico e quindi guardi soprattutto alle cosiddette periferie, ai quartieri troppo spesso dimenticati, ma lo faccia attraverso soprattutto, ripeto, un metodo diverso. Noi insistiamo soprattutto su questo, ed è un po' come dire il frutto della mia esperienza. Io sono, come si dice, un prestato alla politica, ma il fatto di essere etichettato come tecnico sia prima nell'aggiunta sia ora non mi sembra un elemento corretto. L'aggiunta deve essere fatta di persone competenti che il Consiglio deve assolutamente indirizzare e noi questo lo faremo, qualora io sia eletto sindaco, proponendo un metodo di governo completamente svincolato dalle solite logiche un po' partitocratiche che hanno caratterizzato tutte le amministrazioni che hanno preceduto quella che si appresta invece a amministrare nei prossimi tre anni o cinque anni a seconda dei casi. Sì, poi a seconda appunto della nascita di questa nuova Pescara, la nuova realtà istituzionale che è stata scelta dagli abitanti, dai residenti di questi territori attraverso il referendum e poi in sorta come legge regionale. Bene, precisiamo coalizione civica, però c'è una sola lista che sostiene la sua candidatura, il nome è coalizione civica, ma è una coalizione che entra in una lista. Sì, è vero, un secondo solo, il campo è quello diciamo progressista, però abbiamo veramente una varietà di persone nella lista che è interessata soprattutto ai punti, agli obiettivi strategici che abbiamo. Bene, ricordiamo appunto, questo lo dico inizialmente, poi lo ripeterò in altre trasmissioni, è possibile anche il voto disgiunto, cioè si può votare per un candidato sindaco, ma anche per una lista di un altro schieramento. Sostenuto da una lista che è quella appunto della formazione di cui ci parlerà, la formazione sovranista in campo a queste elezioni comunali di Pescara, Gianluca Baldini. Buonasera, buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Allora, innanzitutto voglio presentarmi perché non mi conosce nessuno, è il mio esordio politico, mi chiamo Gianluca Baldini, ho iniziato la mia lunga campagna elettorale l'11 febbraio, presentandomi con del materiale elettorale che è un po' simpatico, il titolo era Chi è Custodio di Chislufie? Volevo presentarmi per far capire innanzitutto chi fossi io come persona, sono un ragazzo di 37 anni che esordisce nella politica oggi con questa esperienza importante, con un partito che nasce nel 2016 dopo una lunga esperienza associativa che inizia nel 2011, con l'obiettivo di rimettere al centro la Costituzione. Questa non è una mera formula, diciamo, priva di significato. Noi nel 2011 siamo stati primi a criticare la costruzione europea ritenendo che l'adesione ai trattati avesse ridotto i margini di spazio di sovranità degli Stati nazionali e che quindi questo non consentiva più di perseguire quegli obiettivi costituzionali come la piena occupazione e l'uguaglianza sostanziale sancita nell'articolo 3 della nostra Costituzione. Quindi c'è stato un progressivo abbandono dello Stato alle forze del mercato e questo ha prodotto, a seguito della crisi disoccupazione crescente, delocalizzazioni, tutto quello che stiamo vivendo oggi. Nel corso di questo processo di costruzione di questo partito che noi vorremmo trasformare, come erano i partiti di una volta, in un ente di formazione e di selezione di una classe dirigente che applichi la Costituzione e abbiamo deciso di arrivare al punto di dover partecipare alle elezioni amministrative perché era impossibile arrivare in Parlamento se non per piccoli passi. Quindi il nostro orizzonte è un orizzonte di lungo periodo, noi diciamo anche trentennale. iniziamo dal territorio perché vogliamo dimostrare che è possibile declinare quei principi costituzionali in un programma territoriale che semplicemente ambisca, diciamo così, a rivendicare quei diritti che sono propri dei cittadini che vivono un territorio, a partire dal diritto alla salute pubblica. In occasione di un altro incontro io ho avuto modo di dire che il buon amministratore dovrebbe agire in ottemperanza a quel principio della diligenza del buon padre di famiglia e ritengo che negli ultimi decenni al contrario ci sia stata una negligenza del pessimo padre di famiglia che ha indebitato l'ente territoriale senza perseguire gli obiettivi minimi che erano quelli di dare decoro alla città, un'aria pulita e un'acqua pulita, quindi uno spazio salubre e una vitalità che a mio avviso pescarà perso negli ultimi decenni. Noi eravamo una città negli anni 60 e 70, quando vedo quelle foto io non ero ancora nato, ma che sembrava Copenaghen e dico spesso che sembra che stiamo andando verso il modello Pechino. Spero di riuscire a spiegare quali saranno i punti del nostro programma nel prossimo intervento in maniera chiara per far capire che in realtà non si deve fare niente di particolarmente, diciamo non dobbiamo ambire a fare grandi cose, ma semplicemente a restituire decoro e a fare cose semplici per ridare vivibilità allo spazio urbano. Torno alla politica attiva dopo un periodo di pausa sabbatica in qualche modo, l'avvocato Carlo Costantini, già consigliere regionale, leader della coalizione di centrosinistra all'opposizione per qualche anno dai banchi della regione, già primo cittadino di San Giovanni Teatino, con una coalizione di tre listre. Perché Carlo Costantini si candida alla guida della città di Pescara? Noi siamo quelli che nel 2011 hanno presentato il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano Espoltore, siamo quelli che hanno promosso il comitato per il referendum del 2014, io personalmente l'ho preseduto. Il referendum sulla Grande Pescara è stato votato dal 71% dei pescaresi ed inevitabilmente questo ha determinato in me la decisione di presentarmi in forma di polo civico, di coalizione civica. Il 71% dei pescaresi che ha detto sì alla Grande Pescara non è riconducibile nel recinto di un partito politico o di una coalizione politica e questa è la ragione per la quale nel momento in cui siamo chiamati ad una fase costituente, perché la prossima consigliatura sarà una consigliatura costituente, sarà una consigliatura che dovrà scrivere le regole fondative della nuova città, io ho ritenuto assolutamente indispensabile e corretto presentarmi al di fuori degli schieramenti tradizionali dei partiti e delle coalizioni politiche, presentando tre liste civiche rappresentate al loro interno da persone, donne e uomini, espressione della migliore parte della società civile pescarese. Il nostro progetto è prevalentemente quello di costruire la Grande Città, è un progetto di straordinaria concretezza. La Grande Città vuol dire taglio ai costi della politica, vuol dire eliminazione di due sindaci su tre, di due giunte su tre, di due consigli comunali su tre, di due direttori generali su tre e di tante altre duplicazioni di costi che in questo momento i cittadini non percepiscono come necessari. Il solo taglio di questi costi comporta un risparmio di circa un milione e mezzo di euro l'anno. I confini tra Pescara, Montesilvano e Spottore sono invisibili, sono impercettibili e costituiscono esclusivamente un fastidio, un disagio, un problema sia per le famiglie che per le imprese. A questa quantità di risorse che deriverà dal taglio ai costi della politica, ci saranno le premialità previste dallo Stato e dalla Regione. In Italia siamo oltre 8 mila comuni e lo Stato si è premurato negli ultimi anni di introdurre disposizioni atti a favorire e incentivare i processi di fusione dei comuni. I comuni che si fondono hanno una quantità enorme di risorse aggiuntive che vengono trasferite, unitamente a risorse aggiuntive che vengono trasferite anche dalle regioni. Il vantaggio ulteriore è che queste risorse potranno essere spese immediatamente perché i comuni che si fondono sono dispensati dall'obbligo di rispettare il patto di stabilità, quindi tante risorse aggiuntive in più e possibilità di spenderle immediatamente per costruire insieme la città del futuro, la Pescara che immaginiamo. Anche le obiezioni che arrivano dai comuni di Montesilvano e di Spottore circa la possibile marginalità del loro ruolo e delle funzioni amministrative sono abbastanza fondate perché il legislatore, sempre preoccupandosi di questo aspetto, si è premurato di individuare all'interno dei meccanismi legislativi la possibilità di istituire municipi. I municipi non saranno scatole vuote, saranno governati da consiglieri di municipio eletti a suffraggio universale, avranno risorse finanziarie e funzioni amministrative e potranno quindi continuare ad esercitare le stesse funzioni che esercitano oggi. La grande città dovrà occuparsi della programmazione di area vasta. Bene, Mirko Iacomelli presente già in altre campagne elettorali più politiche, ora si cimenta in questa avventura amministrativa dove Casa Pound è riuscita innanzitutto a presentare una lista e ambisce a entrare nel Consiglio Comunale di Pescara come obiettivo minimo. Iacomelli. Sì, certo, Casa Pound si presenta a queste elezioni, buonasera a tutti innanzitutto, si presenta in altre tornate elettorali. Chiaramente molti conoscono già a Pescara Casa Pound perché siamo attivi nel territorio, facciamo le nostre raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà pescaresi e ci siamo candidati e io mi sono candidato perché rappresento comunque Casa Pound Italia a Pescara sul territorio. La candidatura nostra è una candidatura che va contro la logica della spartizione partitocratica che finora si è vista e si è vista non solo qui a Pescara ma anche in altre città. Una spartizione che comunque ha portato l'azzeramento di un contesto sociale tragico perché comunque noi viviamo una realtà dove i problemi ci sono, i problemi sono sempre stati e i pagliativi che sono stati adottati per risolvere questi problemi non sono stati mai sufficienti. Quindi i problemi dal nostro punto di vista vanno presi alla radice, vanno presi di petto e di conseguenza affrontati. I problemi principali di Pescara li conosciamo tutti, sono l'inquinamento, quindi il fiume, la gestione del comune verso tutte queste situazioni di inquinamento. Senza dimenticare chiaramente che viviamo in un contesto dove le aree popolari di Pescara, io provengo da un quartiere abbastanza popolare che è Rancitelli come pure la Sclocco, che vivono di situazioni veramente di degrado. I ultimi dati di cronaca ci fanno capire che viviamo in una città ormai in certi ambienti fuori controllo. Quindi agire direttamente su quei problemi, agire direttamente sul discorso del bloccare, del fermare questa avanzata di immigrati che continua ad arrivare dove ci sono società cooperative, ecclesiastici, insomma gente che lucra su questa povera gente che arriva dall'Africa. Quindi bloccare assolutamente il discorso di immigrazione e rilanciare un discorso per i cittadini pescaresi. Un discorso molto complesso, abbiamo un programma abbastanza articolato che passa da parchi fluviali fino ad arrivare agli incentivi sulle famiglie bisognose, comunque sia di Pescara e tanti altri temi che abbiamo trattato sul programma. Bene, Mariella Sclocco, già assessore regionale alle politiche sociali, candidata di una coalizione di centro-sinistra, candidata di tre liste. Allora qual è il profilo della sua candidatura e della sua coalizione? Sì, buonasera a tutti, intanto anch'io mi presento, ho 43 anni, sono una psicoterapeuta e sono una libera professionista. La mia candidatura nasce dalla concertazione di una serie di partiti e di liste civiche di centro-sinistra che hanno trovato nella mia persona la sintesi. Un po' perché anch'io provengo da, sono nata in una quartiere di periferia, Villa del Fuoco, dove ho iniziato i primi passi nell'impegno civico, sono stata consigliera di quartiere, conosco di quella zona pregi, risorse ma anche le grandi difficoltà. Ma poi perché probabilmente in tutta la mia esperienza politica mi sono occupata di temi importanti di cui la nostra città ha bisogno e cioè dei temi dell'inclusione sociale, dell'attenzione alle fragilità, dalla sostenibilità che è certamente sostenibilità ambientale e quindi l'ambiente, l'attenzione nei confronti della natura, ma è anche sostenibilità sociale, quindi il poter essere una città per tutti. Poi credo che anche la mia candidatura sia stata scelta perché la mia esperienza regionale ha dimostrato anche la mia capacità di concretezza e di cambiamento di metodo. Io sono riuscita a fare insieme a tutta la nostra regione un piano sociale regionale completamente partecipato. Quindi anche il metodo e la voglia di relazionarsi e di collegare la parte amministrativa con i cittadini credo che sia una cosa importante perché probabilmente negli ultimi anni tutta la politica è stata un po' troppo lontana dai cittadini. Nel mio programma naturalmente ci sono molte cose, c'è sicuramente l'attenzione alle periferie, a tutte le periferie, c'è un'attenzione particolare alle politiche sociali, quindi come dicevo alle fragilità, alle disabilità, alle donne. Una città a misura di bambino significa una città a misura delle mamme, delle famiglie, una città a misura in generale dei disabili, una città a misura degli anziani. Ma non solo, l'attenzione per l'ambiente. Vengo dal mondo del volontariato, sono stata come sanno tutti agli scauto per tanti anni con tutta la mia famiglia e quindi un'attenzione all'ambiente particolare. La città di Pescara è ancora troppo, una città dove la mobilità è complicata, un fiume che non è ancora perfettamente pulito, non è pulito, è un fiume sporco, un mare che fa difficoltà a trovare, come dire, ad essere un mare pulito da bandiera blu, anche se stiamo lavorando e abbiamo già messo in atto fondi e bandi per far sì che questo possa succedere, ma chiaramente Pescara ha bisogno di migliorare perché ha una grande potenzialità. Grazie Marina Lascrocco, consigliere comunale uscente, ma anche egli già assessore regionale Carlo Masci, rappresenta con le sei liste la coalizione di centrodestra. Ci sono forze politiche e anche forze civiche che hanno aderito al suo progetto politico. Allora Masci, quali sono gli stimoli che la portano a rimettersi nuovamente in gioco per guidare la città, probabilmente il suo obiettivo politico, nel quale ha creduto sin dall'inizio della sua attività, anche come esponente di una componente civica, Pescara Futura, che è stata un po' la sua creatura. Un caro saluto ai telespettatori, un ringraziamento a lei direttore per darci la possibilità di spiegare il nostro programma e anche un saluto e un in bocca al lupo a tutti i colleghi che sono qui e che rappresentano insieme a me e insieme a tutti i candidati la vera democrazia, perché il voto elettorale in comune è quello che più si avvicina alle necessità del territorio e dei cittadini. Come ha detto bene direttore, io rappresento la coalizione di centrodestra, dove ci sono i quattro partiti nazionali, che sono Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc e poi ci sono due liste civiche, Pescara Futura e Amare Pescara. Sono stato scelto perché evidentemente sono la sintesi di un ragionamento di centrodestra che parte dal civismo più puro, perché nasco civico, sono stato sempre eletto in una lista civica, sia in comune che in regione e oggi rappresento invece una coalizione molto ampia che tiene molto a determinati temi che in questa città negli ultimi cinque anni sono stati totalmente trascurati. Pensiamo alla sicurezza urbana, oggi ogni cittadino è insicuro, ogni cittadino in ogni quartiere soffre una condizione di disagio sociale enorme, questa era una città dove si poteva passeggiare tranquillamente alle tre di notte senza che succedesse nulla. Oggi è difficile anche essere tranquilli alle tre del pomeriggio e non soltanto nei quartieri periferici, ma anche nel centro della città. È una città che viveva di turismo e di commercio e queste due branche sono state praticamente azzerate con la vicenda dell'inquinamento del mare che dura tuttora e con le ordinanze ballerine che abbiamo purtroppo visto e con un commercio che non ha avuto nessuna possibilità di contatto con un'amministrazione assente e assolutamente insipiente rispetto a determinate tematiche. Quindi oggi dobbiamo rilanciare questa città, tornare a una città che possa offrire grandi attrattive da un punto di vista turistico, commerciale, ma soprattutto pensare a una ricocitura della città, un rammendo necessario tra i quartieri periferici e il centro della città attraverso interventi mirati concreti che credo debbano puntare assolutamente sull'ambiente perché oggi questa città è una città che ha parchi abbandonati, ha un verde che non è curato, le piante sono totalmente secche e morte in questa città, se uno passeggia percorso Umberto e guarda le piante che ci sono e si rende conto che sono tutte secche, pensa che in cinque anni questa amministrazione veramente ha fallito tutti gli obiettivi che ci sono stati, quindi un rilancio è necessario e sarà necessario puntare soprattutto sui temi dell'intelligenza artificiale che io continuo a sottolineare perché l'intelligenza artificiale permetterà ai cittadini di avere un rapporto diretto con l'amministrazione. Bene, Gianni Teodoro sostenuto da una lista civica, già assessore della giunta uscente, intanto le chiediamo questa candidatura come nasce, perché non c'è stato un accordo con il resto delle forze che ora fanno parte della coalizione centrosinistra e quali sono i suoi obiettivi? Direttore buonasera, buonasera ai colleghi qui presenti, un caro saluto ai telespettatori, perché nasce questa mia candidatura? La mia candidatura nasce per continuare a battermi per questa città con amore come ho fatto dal primo giorno. L'ho fatto e lo continuerò a fare dal 2001 quando non credendo più nei partiti ho dato vita alla lista civica Teodoro che lo porto avanti con coraggio ormai da 18 anni senza mai perdermi d'animo ma senza mai lasciare i cittadini indietro, soprattutto quelli con cui ho avuto modo di interloquire e di ragionare. È una città che ha bisogno di essere riequilibrata, ritengo che il lavoro da me svolto personalmente in questi ultimi anni, mi riferisco alla sicurezza urbana, ha visto segnali in positivo, segnali di grande rinnovamento, avremo una città da qui a poco video sorvegliata ovunque e dappertutto, avremo anche un gruppo rinforzato del corpo di polizia municipale con una particolarità all'interno, cioè il cosiddetto gruppo Giona, un gruppo speciale di uomini in borghese e armati con mezzi civetta che interverranno, come già stanno facendo, in ogni angolo della città e questo lo faremo anche aumentando il numero di questo gruppo oltre che il numero degli agenti di polizia municipale. Ricordo che noi abbiamo anche, e ci siamo battuti nel corso degli anni, per riqualificare le periferie, quando si parla di periferie ricordo ai cittadini pescaresi che il sottoscritto in vent'anni ha trasformato un quartiere periferico, purtroppo un quartiere con gravissimi problemi, lo ha trasformato in positivo, cambiando non solo gli aspetti urbanistici di quel quartiere, le infrastrutture, ma anche il modus operandi delle persone, proprio perché abbiamo lavorato per integrare quel quartiere nel resto della città. Amo e penso una città che sia appunto policentrica, che non sia monocentrica come adesso, dove i coloro che hanno partecipato in vent'anni nei partiti hanno sempre puntato al centro e solo il centro si riconoscono come tali, mentre io mi riconosco come un uomo delle periferie che ha lottato per le periferie e che continuerà a farlo e sono certo che il 27 di maggio la risposta sarà evidente e chiara a chi in questi anni ha tirato invece dritto guardando in altre direzioni. Dico questo per concludere, noi abbiamo anche un rispetto profondo dell'ambiente, non a caso in questi ultimi periodi mi sono dedicato affinché l'amministrazione comunale trasferisse ad una società in Austria l'attiva la gestione e la manutenzione di 61 parchi su 65 della città, un obiettivo raggiunto di cui ne vado fiero e che ha anche creato la cosiddetta occupazione locale di cui Pescara ne ha tanto bisogno. Grazie, sui banchi del Consiglio Comunale cinque anni di opposizione, Erika Alessandrini che ora vuole trasformare in una proposta di governo con la lista del Movimento 5 Stelle, con quali obiettivi, con quali ambizioni? Buonasera e grazie per l'invito, esattamente come diceva lei, dopo cinque anni di opposizione oggi siamo pronti per il governo della città, il Movimento 5 Stelle vuole proseguire puntando sui temi che ha sempre trattato e proposto in Consiglio Comunale in questi anni. Primo tra tutti la partecipazione, cioè rimettere al centro il cittadino. C'è bisogno cioè di azzerare la distanza che si è creata tra la politica e la città perché il Comune è casa nostra, il Comune deve essere un luogo in cui ogni cittadino deve sentirsi accolto e il Comune deve essere quella struttura in grado di facilitare alle persone che vivono in città, i pescaresi, la loro vita, la vita quotidiana e la loro attività lavorativa. Il Comune deve smettere di mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole vivere e lavorare in città ma deve riuscire a consentire invece che le azioni della cittadinanza vengano svolte nel modo migliore possibile. Chiunque va in Comune, ad esempio anche soltanto per una pratica di occupazione di suolo pubblico, per un trasloco, per l'apertura per l'occupazione con dei tavolini di un bar, sa quanto è difficile e complesso il percorso all'interno del Comune. Si deve parlare con quattro uffici diversi, un professionista che vuole entrare in Comune deve prendere una giornata di ferie per riuscire ad avere una informazione. Bene, tutto questo non deve più accadere. Riteniamo importante lavorare sull'efficienza del Comune. Sappiamo che molte cose non funzionano oggi e sappiamo come dobbiamo lavorare per rendere il Comune vicino alla cittadinanza. Ci proponiamo come sempre con una unica lista in cui la metà dei candidati è rappresentata da donne. puntiamo assolutamente sulla competenza, sulla formazione e sul fatto che abbiamo le mani libere per lavorare. Sappiamo infatti noi, come Movimento 5 Stelle, andando da soli, abbiamo la libertà di poter rendere conto solo alla cittadinanza e non ai cosiddetti capi bastone delle coalizioni. sapremo, se andremo al ballottaggio, addirittura potremo presentare, proprio durante i 15 giorni tra la prima tornata elettorale e il ballottaggio, presenteremo la nostra giunta, una giunta competente, fatta di persone che lavorano e che hanno una cultura e un percorso specifico rispetto ai temi che tratteranno. basta con gli ortopedici che fanno gli assessori ai lavori pubblici, basta con i professori di greco al bilancio, c'è bisogno di competenza, c'è bisogno che chi lavora in Comune possa capire quello che sta facendo ed essere in grado di mettere a disposizione la propria competenza per migliorare ciò che non va. Quindi la parola d'ordine è efficienza, efficienza e opportunità. Il Comune deve funzionare per i cittadini, non per la politica, non per restituzione elettorale, ma deve funzionare per consentire a tutti di avere le opportunità che la città merita. Grazie, grazie Erika Alessandrini. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria e poi torneremo con la seconda domanda rispetto alla quale sentiremo le varie risposte a confronto. A tra poco. Siamo tornati in studio con una nuova domanda da porre agli otto candidati sindaci di Pescara. Si è detto che questa legislatura ha un orizzonte incerto perché c'è il passaggio della costituzione della nuova Pescara e più in generale in riferimento ai passaggi politici facciamo anche un accenno a quanto è avvenuto in Regione dove c'è una nuova maggioranza, c'è un nuovo presidente e c'è comunque un quadro politico che è in via di trasformazione. Allora io chiedo cosa dovrà fare un sindaco di Pescara in relazione alle grandi partite che questa città ha all'esterno di essa, vale a dire nel rapporto in particolare con la Regione. Ci sono delle partite che verranno definite e delineate proprio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Mi riferisco per esempio alle scelte sulla sanità, sul DEA di secondo livello, mi riferisco alle questioni del porto su un appalto che è partito ma che deve essere portato a termine, delle grandi scelte strategiche per il ruolo di Pescara città-regione. Mi riferisco anche alle recenti vicende che si stanno definendo proprio in queste ore relative per esempio alle NAIA di su cui un po' tutti siete intervenuti. Ecco, il sindaco di Pescara deve trascorrere parte della sua settimana anche all'Aquila per battere i pugni e far valere le ragioni della città su quel tavolo. Qual è la vostra posizione rispetto alle partite regionali che riguardano la città? Civitarese. Sicuramente, come dicevo prima, Pescara deve ambire e ha tutte le carte in regola per essere una capitale del Medio Adriatico, come diciamo nei nostri obiettivi strategici. Io credo che sia proprio una questione di metodo che occorra sottolineare per cambiare il modo come l'amministrazione e in particolare l'amministrazione della città si approcci in generale alla politica e ai rapporti con le altre istituzioni che sono naturalmente fondamentali. Noi crediamo fortemente nel progetto Nuova Pescara, è sicuramente una cosa che occorre fare, occorre lavorarci, però Nuova Pescara non è sufficiente. È un passaggio verso una prospettiva più ambiziosa e questa prospettiva più ambiziosa significa costruire attorno alla città di Pescara un quadro di una città metropolitana che sia più ampio dei soli tre comuni della Nuova Pescara. Un esempio su tutti, visto che per noi è una questione di fondo, direi, per portare Pescara, per proiettare Pescara verso il futuro e verso una dimensione europea, perché noi dobbiamo ambire a fare di Pescara una città più europea, quello della mobilità. Da assessore avevo elaborato una convenzione tra tutti i comuni della cinta metropolitana, diciamo la fascia adriatica, per realizzare un'agenzia metropolitana della mobilità sostenibile e anche per la lotta all'inquinamento. Sono cose che non possono essere fatte in ambito comunale, non possono nemmeno essere fatte nell'ambito di Nuova Pescara, ha bisogno sicuramente di una forza istituzionale molto ampia e di una politica che si allarghi almeno a tutta l'area metropolitana, che è quella che già esiste con l'Università Chieti Pescara, che esiste con alcune realtà che si stanno creando, la Camera di Commercio, la Confindustria, eccetera. È quella la dimensione in cui dobbiamo. Ma questo significa anche avere un rapporto con l'istituzione regionale completamente diverso. Nella mia esperienza di assessore, sul problema che, ripeto, per noi è fondamentale di avere un trasporto pubblico di massa, moderno ed efficiente, che percorra tutta la città e consenta di liberarci dall'inquinamento, di tutelare la salute, eccetera, la Regione è stata completamente assente. Io non sono mai riuscito una sola volta ad avere un colloquio serio con un assessore regionale, che non c'era tra l'altro, su temi fondamentali per la nostra città, e invece questa cosa naturalmente deve essere, deve terminare Pescara, deve avere un rapporto con le altre istituzioni, che può avere soltanto se si cambia registro. Cambiare registro significa avere un'amministrazione che non dipenda, come sarebbe sia quella di centrosinistra sia quella di centrodestra, da assessori scelti sulla base di elementi abbastanza difficili per i cittadini da comprendere, ma che invece sia fatta attraverso una scelta consapevole di persone competenti. Sono d'accordo con quello che diceva Erika Alessandrini, ma noi inizieremo ancora prima del ballottaggio a indicare il gruppo fondamentale di collaboratori del Sindaco che potranno fare questo e dialogare anche con le altre istituzioni. Baldini, allora, il Sindaco di Pescara nelle grandi partite, ecco abbiamo aggiunto anche il tema della mobilità, che riguardano la proiezione regionale della città. Sì, io intanto, direttore, colgo la palla al balzo per parlare del tema della grande Pescara, che riterrei secondario, diciamo. Tuttavia, abbiamo capito che siamo l'unica forza in campo che si oppone a questo progetto, quindi voglio spiegare perché. A nostro avviso, la grandezza di Pescara sta proprio nel suo aspetto dimensionale, una dimensione ridotta. È quello che abbiamo detto sempre tutti ed è quello che dicono tutte le persone che scelgono Pescara come meta per andare a vivere. Pescara è una città a misura d'uomo, si dice. Allora, qual è, diciamo, il senso di fare questa fusione? Se chiedessi alla collega Reca Alessandrini, probabilmente direbbe perché è stato fatto un referendum, giustamente, perché i Cinque Stelle sono ligi al dovere di rispettare la volontà popolare. Però io ritengo che quel referendum sia stato una farsa, perché non c'è stato un reale dibattito, perché erano in campo tante questioni, c'erano cinque schede su cui votare, non ne ha parlato nessuno, c'era soltanto un comitato promotore e quindi chi ha votato non ha votato con consapevolezza. Ho scherzato dicendo, è come se ai pescaresi avessero chiesto le wufa grosse pescare, e tutti hanno risposto sì, certamente, perché non erano stati spiegati quali erano i benefici e quali erano i costi. I benefici, a mio avviso, sono ingigantiti da coloro i quali si ritengono i promotori, come l'avvocato Costantini, che ha parlato di 200 milioni di euro in dieci anni. In realtà la legge parla di un decimo esattamente di quelle risorse, quindi mi preoccupa anche il fatto che chi la promuova non abbia studiato a fondo la legge. Sono due milioni di euro massimo l'anno di incentivo alla fusione. Quindi, partendo da questa considerazione, perché noi riteniamo che Pescara debba rimanere così, dimensionalmente parlando, e invece debba puntare su altro? Perché la centralità, che cos'è che si è perso in questi dieci anni? Io direi in questo ventennio, ma soprattutto in questi dieci anni. Innanzitutto il decoro della città. La città è sporca, le strade sono ammalorate, il verde pubblico è sempre meno ed è scarsamente manutenuto. Una notizia recente è quella che è stata data in concessione per due anni ad attiva la gestione dei parchi. Io anche questa la ritengo una scelta sbagliata. Si è attiva, si è dimostrata incapace di gestire la pulizia delle strade, perché la città è oggettivamente sporca anche nelle zone centrali, evidentemente non è nelle condizioni neanche di occuparsi del verde pubblico. Noi, al contrario, nel nostro programma abbiamo stabilito la ricostituzione di quelle che erano le squadre dei giardinieri comunali, dei manutentori delle strade e del servizio di pulizia, per realizzare quello che è il nostro programma che prevede la disseminazione di verde pubblico in tutta la città per migliorare la qualità dell'aria, da accompagnare a quel progetto che diceva il professor Civitarese di dotazione di un sistema di mobilità serio. E poi la seconda grande infrastruttura che a nostro avviso serve a Pescara è una ricostituzione dei sottoservizi. C'è una rete duale carente a Pescara, sono 25 anni che andava realizzata, questa consentirebbe di evitare gli sversamenti da reflu in mare e di eliminare il problema degli allagamenti che ormai è diventato una questione diciamo vitale. Bene, Carlo Costantini, tre minuti non credo siano sufficienti poi per parlare nuovamente degli altri aspetti della nuova Pescara. Io avevo calibrato una domanda un po' più precisa, un po' più specifica sulle emergenze attuali che la città nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si troverà a fronteggiare, per esempio sulla sanità, per esempio sul porto, su altre situazioni su cui insomma c'è un ruolo regionale in cui la rappresentatività della città e del suo sindaco sono chiamate a, in qualche modo, negoziare, a far valere le ragioni. Ecco, su questo Pescara, guidata da Carlo Costantini, anche in questa prospettiva della città più ampia. Che tipo di ruolo vorrei recitare rispetto alla Regione? Mi servono 15 secondi in più che utilizzo per dire che è un po' offensivo immaginare che il 71% dei pescaresi che sono 50.000 persone abbiano risposto alla domanda e le WFQ grande, insomma. Però questa è una valutazione che lascio a lui. Per quanto riguarda la misura dei trasferimenti, i trasferimenti non vengono fissati con legge dello Stato, ma vengono fissati con decreto ministeriale che annualmente cambia. Fino ad oggi i decreti ministeriali si sono valutati e ponderati sulla base di fusione di piccolissimi comuni. Quando interverrà la fusione dei comuni tra Pescara, Mozzoglione e Spottore, i decreti ministeriali dovranno inevitabilmente adeguare la misura dei trasferimenti alla dimensione della città. Ma non voglio utilizzare il mio tempo per rispondere a questo. Le sue domande sono interessantissime e ci vorrebbe molto più tempo per rispondere. Prendiamo due temi. Lei ha fatto riferimento al DEA di secondo livello, ma secondo me è opportuno introdurre i telespettatori al tema. Il problema delle spese sanitarie è un problema enorme. Gli ospedali non possono essere costruiti ovunque e le spese per la sanità non sono infinite. Per questa ragione il legislatore statale ha stabilito che possono essere realizzati ospedali con DEA di secondo livello, cioè ospedali particolarmente qualificati e attrezzati che possono trattare problemi di cuore, problemi di crano e politraumi, esclusivamente nei limiti di popolazione tra 600.000 e 1.200.000 abitanti. La regione Abruzzo ha recepito questa legge e ha stabilito che in Abruzzo debbano nascere due DEA di secondo livello. Le DEA di secondo livello sono fondamentali perché oltre ad essere le strutture più attrezzate da un punto di vista tecnologico e professionale sono anche le strutture che ricevono risorse per fare assunzioni, per fare investimenti, per crescere, per garantire la qualità della salute del cittadino. Dove devono essere collocati e dislocati queste DEA di secondo livello? Anche qui il legislatore nazionale e regionale ha fornito dei parametri molto chiari. Tra questi il principale. IDEA di secondo livello devono essere realizzati negli ospedali che hanno oltre 70.000 accessi l'anno al pronto soccorso. Pescara ne ha 98.000, Chieti ne ha 63.000, L'Aquila ne ha 48.000, Teramo ne ha 42.000. Il pronto soccorso di Pescara è straordinariamente il più grande rispetto a tutti, ma la logica degli accessi al pronto soccorso non è una logica che risponda ad esigenze di campanile, è una logica che risponda ad esigenze di tutele e di sicurezza della salute dei cittadini, perché è la casistica che fa la differenza qualitativa tra un ospedale e l'altro e l'esperienza sono i casi con i quali i professionisti che operano in ospedale devono confrontarsi. Nonostante questi numeri grandiosi a favore della città di Pescara, io periodicamente leggo che la giunta regionale vorrebbe escludere Pescara ed inserire Chieti e Teramo. Cosa farò da sindaco? Due cose. Il giorno dopo farò una diffida alla regione Abruzzo per fare in modo che questa decisione venga presa. La regione Abruzzo è l'unica regione che non è ancora intervenuta su idea di secondo livello e nel caso in cui la regione Abruzzo dovesse escludere Pescara, il giorno dopo firmerò personalmente un ricorso al TAR per impugnare questa decisione che sarebbe legittima, illegittima e gravemente lesiva degli interessi dei pescaresi. Secondo tema, il dragaggio del fiume Pescara. Cosa farei in termini di straordinaria concretezza? Nel 2013 ho presentato in regione La risposta a un progetto di legge per il dragaggio permanente dei porti di Ortono e di Pescara. Il dragaggio è un'esigenza permanente di manutenzione quasi ordinare dei porti. Se si gestisce con la logica di emergenza si spende il triplo e spesso si commettono anche errori. Giacomelli per che cosa lei prioritariamente si batterebbe da sindaco di Pescara sugli altri tavoli non solo quello della regione ma anche quello nazionale volendo. Come primo tema come dicevo l'abbiamo messo anche sul programma è il fiume. Il dragaggio è una cosa essenziale come diceva Carlo Costantini è essenziale per Pescara perché dragare il fiume significa pulire il fiume dare la possibilità alla marineria di poter rientrare dentro il porto canale se noi non facciamo questo avremo sempre e comunque dei problemi problemi che sono purtroppo dovuti alla mala gestione di questa cosa qui se noi pensiamo che una volta me lo ricordo ero piccolo noi c'avevamo una draga che dragava il fiume Pescara sistematicamente sempre e poi questa draga stranamente è stata portata a Ortona non si sa che fine ha fatto se la sono rubata non lo so se la saranno rivendita e comunque Pescara non aveva più questa non ha avuto più la possibilità di dragare il fiume se non che tramite spese continue di soldi Pescara ha dovuto sopperire a questa cosa affittando una draga quindi chiamando dei lavoratori esterni personale da fuori e quindi aziende che venivano da fuori Pescara per poter dragare il portocanale il portocanale è un problema è veramente un problema perché dal portocanale e dal fiume Pescara nasce tutta la problematica poi pescarese se pensiamo ai bagnatori che in pratica hanno dovuto costruire delle piscine perché non si può più fare il bagno a Pescara cioè il pescarese non si può fare il bagno perché ci sono i divieti costanti e sinceramente il mare per me che vado pure in barca cioè è uno schifo totale perché comunque è inquinato è inquinato e non si può dire che non è inquinato oppure non si possono mettere i divieti che dopo il giorno dopo si tolgono poi si rimettono oppure c'è un confine dove l'acqua è pulita e l'acqua è sporca l'acqua del mare è sporca ma l'acqua del mare è sporca perché è dovuta al fiume il problema è sempre quello è il fiume che è sporco il fiume è sporco bisogna iniziare subito con la pulitura completa del fiume potenziare il depuratore andare a intervenire subito chiaramente sono lavori che comportano un sacco di tempo non sono quei lavori dove il politico di turno si fa il ponticello e inaugura il ponticello e dice che è bello quando sono bravo ho inaugurato il ponticello lì c'è da mettere mano a un discorso molto più grande un discorso comunque che comporta un sacco di tempo ci sono delle spese chiaramente anche sul discorso del fiume bisognerà oltre alla regione Abruzzo coinvolgere anche i paesi che comunque scaricano nel fiume quindi tutti quelli limitrofi al comune di Pescara e anche oltre e quindi si dovrà fare un piano di riassetto di manutenzione di questo Benedetto Fiume se no il problema principale è quello e poi comunque sia come dicevo prima una cosa che si può fare subito senza regione senza niente è mettere mano subito a un discorso di criminalità di degrado che a Pescara ormai è diventata una cosa incredibile Marina Nasclocco quali sono le partite che lei sin dal giorno del suo insediamento alla vita del comune aprirebbe le vertenze nei confronti degli altri tavoli a partire da quello regionale ce ne sono tanti i tavoli sono certamente quello regionale ma ci sono anche i tavoli del ministero ci sono anche i tavoli europei è chiaro che un sindaco dovrà avere collaborazione ma anche saper battere i pugni per difendere la propria città e per poter risolvere i problemi di Pescara allora vado veloce e sarò molto concreta DEA di secondo livello è indubitabile che Pescara ha i numeri per avere il DEA di secondo livello le altre soluzioni sono state bocciate al ministero per cui il DEA di secondo livello non può che essere a Pescara quali sono i numeri per esempio il numero maggiore di accessi alla struttura questo consentirà a Pescara quindi una volta che avrà sarà DEA di secondo livello di avere più fondi per da investire in personale e tecnologia quindi su questo non ci sono dubbi la seconda partita importantissima il porto mi chiedo che cosa abbiano fatto coloro che hanno governato al comune per 25 anni io non sono mai stata consigliera comunale ma sono stata in regione e l'unica azione concreta che abbiamo saputo portare avanti per il porto è stata quella fatta dalla mia giunta perché per la prima volta siamo intervenuti con 32 milioni di euro sul depuratore porto quindi mare pulito fiume pulito significa intervenire sul depuratore il decolla con i 32 milioni sul depuratore 12 dei quali sono già stati messi a bando ci sono già i lavori serviranno ad ampliare la portata del depuratore in modo da far sì che quello che succede da 100 anni e cioè durante le piogge ci sia lo sfioro e quindi il riversamento il mare di acque certamente non pulite non possa accadere più perché il depuratore sarà ampliato i lavori ci sono adesso e poi l'altra questione che riguarda sempre il porto il mare pulito fiume pulito e quindi il depuratore finalmente riusciremo a far sì che le acque nere le acque bianche che da 100 anni confluiscono non confluiscano più questo significa fare cose concrete per il mare pulito e il fiume pulito chiaramente i controlli ma poi abbiamo messo anche un'altra cosa i controlli sul fiume per chi riversa in maniera illegale sul fiume ma un'altra cosa per tranquillizzare tutti durante la stagione estiva metteremo dei cartelloni grandi per pubblicizzare a tutti per far vedere a tutti in chiaro le analisi dell'arta che durante l'estate vengono fatti con cadenza molto ristretta e molto specifica l'altra partita le najadi è una partita dolorosa una grande ferita per Pescara perché le najadi rappresentano ancora ad oggi una storia ed un passato non solo sportivo ma anche di cultura illustro perché lì si facevano dei concetti meravigliosi noi abbiamo in qualche modo preso in carico la situazione fino a quando eravamo in regione con delle delibere molto chiare abbiamo fatto sì che si dicesse sia un project ma ci sarà il bando e poi abbiamo fatto un bando ma diciamo che da tre mesi anche quattro mesi a questa parte la regione si è completamente seduta sulla situazione ed è successo quello che è successo sulle altre partite spero di ritornarci sì sicuramente avremo un altro giro Carlo Masci quanto sarà importante per lei se hai letto anche un po' l'effetto filiera che si può avere in particolare con la regione poi con il governo ci sarebbe anche il Movimento 5 Stelle che potrebbe insomma far valere qualche ragione della città direttore mi consenta soltanto 30 secondi per rispondere a Mariella Sclocco sul DEA di secondo livello evidentemente le delibere di cui parlava e che sono state bocciate sono state votate anche da lei perché era in giunta fino a qualche giorno fa quindi non era così non era scusa risponderà dopo così non era così in quel momento non era così convinta che ci volesse il DEA di secondo livello a Pescara ovviamente ci vuole perché i numeri lo dicono perché la realtà di Pescara lo dice perché il DEA di secondo livello porterà risorse personale e darà una risposta concreta alle esigenze di sanità e di salute che i cittadini di Pescara hanno ma non soltanto i cittadini di Pescara ma i cittadini di tutta la regione perché il riferimento dell'ospedale di Pescara è un riferimento certamente regionale per quanto riguarda il discorso del porto quei fondi di cui parla la Sclocco ci sono dal 2012 evidentemente dal 2014 al 2019 la regione a guida d'Alfonso con Marinella Sclocco Assessore ha fatto molte molte carte tant'è che siamo arrivati al 2019 senza risolvere ovviamente il problema per quanto riguarda invece quello che dovrà fare il sindaco il sindaco dovrà occuparsi di tutto perché il sindaco non dovrà occuparsi soltanto del comune ma dovrà occuparsi dei cittadini che vivono all'interno dell'area pescarese e non soltanto dell'area pescarese perché un sindaco deve interfacciarsi con tutte le amministrazioni difendendo il proprio territorio e quindi parliamo della regione parliamo dell'Inps parliamo del tribunale parliamo dell'università parliamo di tutti gli enti che comunque in quest'ambito ovviamente rispondono alla necessità dei cittadini ecco il sindaco dovrà occuparsi di tutto perché sarà importante rispondere ai cittadini per quanto riguarda il discorso dell'università l'università su Pescara gravitano circa 15.000 studenti e sull'area metropolitana a Chieti Pescara circa 30.000 studenti quindi una città nella città le risposte all'università bisognerà darle per l'ampiamento di una realtà che vive su questo territorio e produce cultura e produce economia in maniera forte la grande Pescara ci sono stati diversi attori nel discorso della grande Pescara quando la legge è stata approvata in regione io ero sessore al bilancio ho ovviamente trovato i fondi per il referendum ho votato da consigliere regionale quella legge sul referendum fondamentale affinché poi partisse l'iter burocratico e mi batterò affinché ci sia la grande Pescara perché il territorio pescarese oggi è compresso e le condizioni di Pescara impongono un allargamento perché già esiste nei fatti è sostanzialmente la grande Pescara perché nessuno sa qual è il confine tra Pescara e Montesilvano e Pescara e Spoltore a questo punto le realtà che gravitano attorno a Pescara devono unirsi da un punto di vista istituzionale per far sì che Pescara possa essere la quattordicesima città italiana una città con 200.000 abitanti che ovviamente ha l'ambizione di diventare la capitale dell'Adriatico Gianni Teodoro lei diventa sindaco di Pescara qual è il motivo per il quale comincia subito come si dice a fare casino con le altre amministrazioni intanto bisogna amare Pescara per amare Pescara si ha anche il coraggio di battere i pugni perché chi non ama Pescara i pugni non li ha mai battuti e non li batterà mai detto questo la prima cosa da fare con la AS di Pescara allora e quindi con la regione Abruzzo è vero sì che la DEA di secondo livello comporterà una elevata eleverà alla massima potenza e alla qualità dei servizi le cosiddette eccellenze all'interno dell'ospedale di Pescara ma è anche vero che nel sindaco di Pescara sarà anche il presidente del comitato ristretto di sindaci che ha un potere enorme e cioè quello di leggere i bilanci di capire cosa c'è scritto all'interno di un bilancio non solo la spesa per il personale dell'AS ma anche tutti quei servizi di cui voglio dire la AS si fa carico nel sostenerle e qui un sindaco interviene quel comitato di cui ne è presidente interviene in modo determinante con ogni giorno se necessario col direttore generale per cambiare questo sistema e per rendere un servizio efficace ed efficiente senza girare intorno alle parole questo il sindaco già ce l'ha nei suoi poteri e lo può fare e io quindi se sarò eletto sindaco state certi i cittadini pescari che lo farò con la mia storia e con la mia fermezza detto questo la mobilità della città è l'ambiente ed il decoro io vedo una città che ormai viene soffocata giornalmente ma non da oggi da sempre negli ultimi vent'anni dal numero elevato di automobili che entrano nella nostra città quindi immediatamente darò vita ad un accordo se necessario anche di programma alla luce del sole nella massima trasparenza per realizzare i parcheggi di scambio a nord e a sud della città sulla parte ovest già ci sono perché ci sono le aree di risulta che andranno migliorate nel tempo il decoro e l'ambiente io vedo il recupero delle periferie non con le chiacchiere ma ad esempio proprio lì sulla zona dell'ex Cogolo dove insiste in quell'area insistono i depuratori io vedo e anche per la tipicità del luogo vicino all'asse alla circunvallazione io vedo ad esempio in quei padiglioni dismesti un nuovo accordo di programma anche lì alla luce del sole per la costruzione di nuovi padiglioni e per rendere quell'area una fiera e per dare a quell'area una fiera permanente del fiore noi sappiamo quanto economia porterebbe nella città di Pescara una fiera permanente del fiore ma che sia di livello e di respiro come la fiera permanente di Rimini questo significa avere le idee chiare e puntuali e sul decoro è sempre legato all'ambiente io darò vita se sarò eletto sindaco ho avuto modo anche già di dirlo ad un gruppo speciale che sarà il NIR il nucleo intervento rapido proprio per intervenire immediatamente su quei luoghi dove ci sono delle difficoltà a partire da un marciapiede che è divelto ad un'area tenuta in colta ma non tenuta ma non tenuta nella maniera doverosa del termine quindi questo significa dare risposte nell'immediatezza e con la qualità del servizio se questo mi sarà dato nel senso se voi cittadini di Pescara mi voterete state pur certi che io lo porterò a termine nel breve medio termine e comunque nei cinque anni Enrico Alessandrini Movimento 5 Stelle che ricordiamo è all'opposizione in regione ma insomma è forza di governo a livello nazionale allora quale tra le partite di cui stiamo parlando adesso ritiene tra le prime da dover inoltrare sulle altre sedi decisionali insomma in forza di questo di questo ruolo che comunque consente al partito di essere presente sia in regione appunto per contrastare le scelte sia invece in sede governativa per promuoverle Sì direttore quando parliamo di regione possiamo parlare rispetto al comune di Pescara di tre principali argomenti quindi fondi masterplan che sono i fondi che la regione mette a disposizione del comune il piano regolatore del porto e il trasporto pubblico locale fondi masterplan abbiamo a disposizione non sono stati spesi ancora i famosi 12 milioni di euro che la regione ha messo a disposizione per l'area di risulta 4 milioni e mezzo per il museo del mare e una serie di altri interventi che sono stati elencati e quindi previsti all'interno del masterplan che il comune deve essere pronto a spendere immediatamente non bastano mai i fondi in comune quindi non possiamo assolutamente permetterci di perdere tempo e saremo pronti quindi già dal primo giorno di governo cittadino a mettere in campo tutte le nostre capacità per spendere nella maniera migliore e più opportuna possibile i soldi che la regione ha già stanziato per la città di Pescara piano regolatore del porto purtroppo destra e sinistra entrambe in momenti diversi delle loro amministrazioni hanno previsto un piano regolatore del porto che ucciderà il porto di Pescara senza mezzi termini è un piano che costerà 200 milioni di euro che prevede di cementificare il porto che devia completamente il corso dell'attuale porto canale costruendo eliminando il molo dove oggi ci sono i trabocchi costruendo delle banchine assolutamente inutili perché basate come costruzione e quindi come stime e analisi su dati di 20 anni fa purtroppo si va incontro a un nuovo sfracello come quello generato dalla costruzione della diga foranea che è stata la vera causa dell'inquinamento e del fatto che oggi ancora dobbiamo subire ad ogni pioggia dei livelli diciamo di inquinamento tali da non permetterci la balneabilità c'è bisogno di una manutenzione costante del fiume per il quale avere a disposizione dei soldi c'è bisogno di un progetto alternativo a quello che destra e sinistra vogliono portare avanti la scorsa giunta regionale di centro-sinistra ha approvato questo piano regolatore del porto per pezzi non facendo una via nazionale ma riducendo spezzettando questo progetto in piccoli tratti abbiamo visto ad esempio già il buco della diga foranea che è stato creato l'anno scorso che non risolverà assolutamente il problema dell'inquinamento ma che rappresenta una piccola parte di questo progetto che dovrà essere portato avanti in secondo il centro-destra noi ci batteremo per questo abbiamo sempre proposto dal 2014 un progetto alternativo molto meno impattante molto meno dispendioso ed è quello che vorremmo portare avanti infine trasporto pubblico locale il trasporto dipende dalla regione il comune paga alla regione dei chilometri e purtroppo però nessuno mai in comune ha battuto i famosi pugni sul tavolo per decidere dove far passare le linee del trasporto pubblico per decidere quante devono essere le corse quale deve essere il percorso preferenziale bene noi dovremo assolutamente unire le sinergie tra il comune e la regione qualsiasi colore abbia la regione non ci importa perché dobbiamo fare in modo che quando spendiamo dei soldi per la cittadinanza il servizio sia efficiente bene grazie sul filo di sirena Enrico Alessandrini ed ora ci fermiamo per l'ultima pausa poi torneremo in studio per concludere la nostra tribuna elettorale linea alla regia bene siamo tornati in studio per l'ultima tranche di risposte sulla campagna elettorale a Pescara ricordo questo è il primo confronto tra i candidati sindaci della città sono tutti e otto presenti nei nostri studi e a tutti e otto adesso io chiedo di essere veramente bravi perché dovete esserlo nel rispondere a questa domanda che è una domanda che io anche chi mi ha preceduto in queste tribune ha posto per vari decenni tutti coloro che si sono candidati a guidare la città cioè che volete fare delle aree di risulta allora avete cinque anni ancora a disposizione per evitare che io ve la voglia rifare quando si tornerà alle urne cinque tre forse anche meno se ci sarà la fusione ma insomma siamo arrivati alla conclusione dell'ennesima consigliatura con un nulla di fatto avete cinque anni i primi saranno fondamentali per decidere perché come si è visto se si fa tutto alla fine non si fa niente professor Civitarese ci vuole provare lei? ci ha già provato a fare qualcosa ma insomma non è andata benissimo nel primo tentativo no sì certamente noi non solo ci proviamo ma a me pare che abbiamo l'unico progetto realmente in campo che per ragioni varie che sono credo difficili da spiegare da far capire ai cittadini non è stato portato avanti dopo che l'abbiamo adottato quel progetto e adesso dirò brevissimamente perché vorrei tornare anche su un paio di cose della precedente giro ma un progetto che è stato adottato è un progetto che prevede del parco centrale quello che noi chiamiamo il parco centrale è un progetto fattibile che effettivamente restituisce a Pescara un luogo importantissimo che diventerà identitario che è un progetto che tra l'altro si collega a quella più ampio piano strategico che citavo all'inizio e cioè è una delle aree strategiche che insieme ad altre quella universitaria per esempio che deve diventare una vera e propria cittadella un campus diffuso diciamo noi cose che sono state approvate dal Consiglio Comunale vorrei vorrei sottolineare questo e cioè questo programma strategico è parte o sarebbe parte di quello che il Consiglio Comunale nell'attuale legislatura l'attuale mandato del sindaco ha deliberato dopodiché per ragioni che sono quelle che appunto dicevo prima di da un lato incapacità dall'altro contrasti interni dall'altro cortezza di vedute diciamolo pure non si è riusciti a portare avanti tenete conto che il progetto dell'area di risulta è stato dopo l'adozione per circa un anno forse più di un anno nel cassetto del sindaco è stato portato in Consiglio gli ultimi giorni probabilmente così tanto per dare un segnale elettorale e naturalmente non c'è stata la possibilità di approvarlo ma quello è un progetto che tutela l'ambiente è un progetto soprattutto fattibile che realizza davvero una ricucitura anche con il discorso che si faceva prima del trasporto sostenibile la mobilità sostenibile la famosa metropolitana di superficie le piste ciclabili all'interno e quindi è un progetto che è in campo e che io come sindaco sicuramente porterò avanti perché è l'unico davvero fattibile tra l'altro lì ci sono anche quei fondi del master plan che rendono finanziariamente l'ipotesi percorribile quindi senz'altro credo che su questo non ci possano essere dubbi vorrei tornare su due punti ci sono pochi secondi ormai ma il discorso del porto secondo noi il discorso del porto è un discorso del mare più in generale è un discorso legato è un unico sistema con il fiume ma la questione del dragaggio della depurazione non è sufficiente se non si rinaturalizza il fiume se non si consente cioè che il fiume torni a fare quello che deve fare un fiume cioè non trasportare in mare una quantità di inquinamenti di detriti assolutamente insostenibile non si risolverà mai il problema neanche con il dragaggio quindi ci vuole un contratto di fiume ci vuole che Pescara anche qui con la regione costruisca un vero e proprio parco fluviale che consente di avere finalmente il mare pulito grazie Civitarese Baldini sulle aree di risulta direttore qualche giorno fa è uscito un articolo sul centro in cui noi tutti esprimavamo le nostre diciamo idee su questo progetto noi io mi sono permesso di almeno in questo caso fare da mediatore cioè assumere questa posizione a mio avviso l'area di risulta è una cosa troppo importante per diventare oggetto di campagna elettorale in cui ci si deve scornare su cosa fare o cosa non fare noi una nostra idea ce l'abbiamo ma abbiamo detto sarebbe il caso che si mettessero seduti ad un tavolo tutte le forze che poi diventano rappresentative della collettività per trovare diciamo una mediazione noi riteniamo che il progetto che era stato portato dal consigliere Martelli e dal professor Civitarese non fosse poi così diciamo integralmente da buttare l'idea per esempio di destinare una quota generosa di quello spazio a verde pubblico è condivisa da tutti tant'è vero che poi ho letto che tutti quanti hanno ripetuto questa cosa quindi siamo d'accordo almeno sul fatto di farci un parco questo è deciso o almeno mi pare di capire che sia condiviso da tutti quello che noi abbiamo criticato di quel progetto e che ho capito che forse era anche un oggetto di critica da parte dei 5 Stelle è il concetto di farlo in partenariato con un privato quindi con lo strumento del project financing ma perché cioè noi siamo diciamo abbastanza contrari a questo tipo di strumento ma riteniamo che in alcuni casi possa essere utile come nel caso delle NAIA di sai è stato portato avanti un progetto di gestione delle NAIA seguendo questo schema perché nel caso dell'area di risulta a nostro avviso è sbagliato perché subentra un privato sottraendo al comune comunque un'entrata Pescara Parcheggi dà 2 milioni di euro l'anno al comune che in 20 anni fanno 40 milioni di euro cioè per quale ragione noi dobbiamo dare a un privato la realizzazione di quell'area e poi dargli in concessione per una vita praticamente i parcheggi del centro quadruplicando i costi per la collettività quando esistono delle risorse diciamo la programmazione ebbè in 20 anni sono parecchio in 20 anni il comune prenderebbe 40 milioni di euro da Pescara Parcheggi e i pescaresi continuerebbero a pagare 2,50 euro anziché 10 euro c'è anche come recuperare quei fondi perché se no poi diamo informazioni non corrette comunque ad ogni modo noi riteniamo che quel tipo di progetto possa essere limato sottraendo tutte quelle aree interrate che sono state previste che fanno lievitare i costi e che a nostro avviso sono anche realizzabili tant'è vero che anche nel progetto c'è una certa aleatorietà nella possibilità di realizzare quelle aree e sarà necessario per forza fare quei parcheggi di scambio anche centrali quindi i famosi due silos anche se io li detesto perché mi piacerebbe vedere solo verde ma purtroppo è una necessità ridonare quantomeno noi diciamo almeno la metà dei parcheggi che esistono nella previsione poi di fare quella famosa infrastruttura che da Corso Vittorio Viale Marconi e Strada Parco dovrebbe riuscire a demotorizzare la città cioè a ridurre il numero di vetture private in circolazione quindi questa è la nostra idea insomma bene Carlo Costantini faccia in modo che io tra 5 anni se lei è sindaco di Pescara non le rifaccio la domanda che cosa farete sulle aree di risulta io farò sicuramente in modo che questo accada anche perché il progetto dell'area di risulta dal mio punto di vista nel complesso è più semplice io non sono molto favorevole al progetto che è stato approvato e poi abbruttito dall'attuale amministrazione non sono favorevole ai parcheggi a Silos a delle torri per i parcheggi abbastanza decentrati io sono molto più favorevole alla conservazione degli stessi numero di posti auto possibilmente aumentati a raso o interrati sono certamente d'accordo sull'idea di un grande parco non deve trattarsi però di un parco abbandonato a se stesso noi abbiamo tantissimi parchi pubblici aree verdi attrazzate che vivono una condizione di abbandono totale io sono molto preoccupato dall'idea che possa nascere un parco in una dimensione così estesa ed incontrollato perché temo che purtroppo una struttura di questo genere possa diventare oggetto di abbandono e di degrado penso quindi piuttosto a delle aree verdi attrezzate assolutamente integrate nel tessuto urbano della città e attrezzate per il tempo libero per lo sport per il fitness dei cittadini e dei turisti quindi idee abbastanza simili magari con un po' più di attenzione sulla sorveglianza e sulla protezione di queste aree poi tra le varie ipotesi che sono state messi in campo io ho pensato a quella del pararock che non è una struttura che fa rumore il pararock secondo la visione ispirata anche a quello che ha fatto De Magistris a Napoli dovrebbe essere una struttura che contiene al suo interno delle sale di registrazione gratuite per consentire ai giovani amanti della musica del rock italiani ed europei di venire a Pescara e di incontrarsi di contaminarsi di provare di scambiare nuove esperienze culturali e musicali io penso che Pescara abbia bisogno di costruire una nuova vocazione e immagino che la vocazione di Pescara Città del Rock sia una vocazione possibile io non so non sono però assolutamente incondizionatamente innamorato di questa idea io sono convinto che la partita dell'area di risulta sia la partita della vita per Pescara e soprattutto per il commercio di Pescara e quindi non escludo la possibilità che immediatamente dopo la mia elezione si possa coinvolgere studiosi di fame internazionale per individuare la struttura da realizzare all'interno di un'area di risulta che possa garantire il maggior numero di afflusso di persone possibili il centro della città ha bisogno di tornare a vivere il commercio soffre una condizione di crisi devastante la mobilità è stata gestita sulla base di pulsioni ideologiche gli studi internazionali dimostrano che il cittadino abbandona la macchina non perché è costretto il cittadino abbandona la macchina perché non ha più bisogno della macchina perché il comune ha creato un sistema della mobilità alternativo che non rende più conveniente l'uso della macchina a Pescara nel corso degli anni abbiamo immaginato e supposto che bastasse recintare progressivamente pezzi di città per risolvere il problema della mobilità così non è stato perché in assenza di un piano urbano della mobilità sostenibile che deve coinvolgere anche la città di Montesvano e la città di Spoltore nell'ottica di Roma Pescara noi i problemi della mobilità non li risolveremo mai quindi l'area di risulta rappresenta il tema centrale il presupposto fondamentale per il rilancio del commercio e dell'economia della nostra città e quindi parcheggi in area di risulta e parcheggi anche all'interno del centro di Pescara Mirko Iacomelli Sì chiaramente l'area di risulta è il nostro biglietto da visita un turista arriva o comunque sia una persona che viene da fuori arriva scende alla stazione che vede vede una situazione di degrado assoluto vabbè con il mercatino etnico che è stato fatto ultimamente ma quello è solo diciamo lo specchietto per le allodole visto è considerato che se andiamo a vedere il mercatino etnico è stato generato all'epoca dal centro-destra e poi successivamente portato avanti dal centro-sinistra quindi per far capire che in sostanza le cose non cambiano la prima cosa che si dovrebbe fare la cosa più semplice basterebbe il primo giorno è quella di dire alt-stop io qui nell'area di risulta perché poi il problema è l'area di risulta perché il discorso della criminalità dello spaccio del parcheggio abusivi quando una persona entra dentro il parcheggio a pagamento si ritrova ogni 2-3 metri un immigrato che gli chiede i soldi che molesta le ragazze che comunque sia escono dalle attività commerciali delle commesse che vanno a riprendere la macchina si ritrovano queste persone qui quindi comunque sia il problema è grave la prima cosa da fare è quella di eliminare bonificare completamente l'area da questa situazione di degrado quindi poi possiamo fare qualsiasi cosa noi abbiamo progettato abbiamo un progetto di un parcheggio elevato perché comunque sia Pescara ha bisogno di parcheggi ci sono macchine riaprire comunque sia il Corso Vittorio perché hanno fatto qualcosa di incredibile Pescara comunque sia una città allungata se tu chiudi le vie e comunque sia non dai la possibilità del transito alle macchine comunque Pescara muore anche a livello di commercio quindi per quanto riguarda l'area di risulta l'area di risulta è la prima cosa da fare ecco non è tanto il mercatino etrico dove hanno scritto tanto i giornali ma bensì è tutto quello che c'è intorno al mercatino etrico abbiamo delle zone veramente brutte dove ci sono donne che ogni giorno possono essere violentate ci sono stati casi dove ci sono state delle violenze gente ubriaca che comunque bivacca lì senza che nessuno dice niente anzi qualcuno non ci passa nemmeno più perché veramente è una situazione abbastanza di degrado e di pericolosità quindi ecco la prima cosa da fare è quella di risolvere il problema della criminalità e del del degrado che c'è in quella zona questa si fa subito sostanzialmente non è che ci vuole ci vuole molto poi per quanto riguardano i parcheggi sotterrani il parco io immagino soltanto un parco lì come si esce dalla stazione un grande parco lì significherebbe veramente il disagio più assoluto visto e considerato quello che c'è quindi risolvere a monte risolvere i problemi semplici che si possono risolvere in un battibaleno e poi successivamente fare un discorso di parcheggi anche elevati a noi sta bene perché comunque sia Pescara ripeto ha bisogno di parcheggi di conseguenza ridare a quest'area un aspetto degno Marina Lascocco cosa fare e cosa fare subito visto appunto che si arriva sempre fuori tempo massimo con queste scelte importanti per la città Caro Carmine ti dico quello che già ho fatto per l'area di risulta e poi anche quello che vorrò fare allora intanto quando ero assessore regionale abbiamo ho fatto un accordo con il comune e l'ex ferrotel tramite appunto questo accordo lo abbiamo portato ad un bando come progetto ad un bando ministeriale abbiamo vinto i fondi e oggi anzi diciamo spero presto l'ex ferrotel che è una struttura che è nell'area di risulta sarà trasformato completamente l'ex ferrotel lo ricordo è quella struttura ormai chiusa da anni proprio adiacente al in mezzo tra l'area di risulta e Corso Vittorio Emanuele quindi quella struttura di fatto aprirà sarà la prima struttura che probabilmente aprirà i progetti poi futuri per tutta l'area nell'ex ferrotel ci saranno sicuramente dei posti letto per i giovani studenti ma non solo sarà una struttura aperta a tutta la città perché ci saranno biblioteche aree comuni cineforum insomma una struttura diciamo polivalente ad uso degli studenti che verranno a studiare nella nostra Pescara o comunque nell'università Chieti Pescara e poi comunque sarà aperta a tutta la città questa struttura in qualche modo già connoterà in parte quell'area io voglio ricordare una cosa per chi non non avesse questo ricordo molti anni fa molte associazioni ambientaliste ma anche molti cittadini fecero una battaglia per quell'area allora dico questo o li ascoltiamo sempre i cittadini o non possiamo ascoltarli ad intermittenza i cittadini volevano che quell'area fosse restituita strappata alle ferrovie e restituita alla città come polmone verde della città quindi è chiaro che anche per noi il parco centrale è importante così come sono importanti i parcheggi che saranno sia sotterranei sui silos chi dice altro di fatto diciamo farà perdere molto tempo alla città perché questo è quello che c'è sul piano regolatore e questo è quello che c'è sul piano regolatore poi come farlo chiaramente tutto da ancora da vedere da concertare è tutto ancora in ballo ma il piano regolatore è molto chiaro una cosa però la devo dire a Carlo Masci rispetto a quello che ha detto prima io suggerisco da figlia diciamo così a Carlo Masci al collega Masci di dire quello che vuole fare lui sulle questioni e non andare sulle cose che certo mi puoi criticare è giusto che mi critica anzi critica mi cura che sempre il confronto è buono ma quando diciamo si parla del mare oltre a fare le foto mentre esci dal mare di che cosa vuoi fare sul porto ripeto la diga foranea l'abbiamo sfondata abbiamo fatto un piano regolatore portuale che ha già messo le barriere soffolte di molto migliorerà il dragaggio abbiamo ampliato il parco depuratore il parco depurativo tu quali sono le proposte sul mare e sul fiume? bene per Masci c'è anche l'altra domanda sulle rete risultate oltre a questa che è intervenuta mi hai sfidato tu prima io ho solo precisato che siccome eri in giunta fino all'altro ieri quando parli del dia di secondo livello non puoi dire che vuoi fare il contrario di quello che hai fatto solo questo ho detto quando eri in giunta il dia di secondo livello era tra fiscare i piedi non era da un altro momento scusami va bene allora siccome mi ha sfidato sulle cose da fare io dico intanto quello che sull'area di Sulta ho fatto da assessore al traffico qualche anno fa perché quell'area era un'area totalmente abbandonata residuale e con l'aggiunta pace abbiamo bonificato tutta quell'area abbiamo creato 2000 parcheggi abbiamo creato la strada parco abbiamo acquistato dalle ferrovie dello Stato quello spazio che oggi è a disposizione di tutti i cittadini quindi gli altri hanno prodotto molte carte noi abbiamo fatto dei fatti che sono sotto gli occhi di tutti e di cui i cittadini hanno usufruito quindi oggi se parlo di quello che vorrò fare dico che forse ho anche la possibilità di farlo visto l'esperienza che ho messo in campo intanto diciamo che c'è stata una cosa quando parlo di piano regolatore quel piano regolatore del 2000 approvato all'unanimità per quanto riguarda il discorso della strada parco di tutte le componenti che erano in consiglio comunale proprio perché quello spazio doveva essere destinato con ovviamente la giunta pace e doveva essere destinato a servizi per la collettività e a verde pubblico collegati ovviamente con la strada parco per collegare i parchi della città cioè il parco nord il parco centrale e il parco d'Avalos perché questa era la città che volevamo costruire e che io sono sicuro costruirò da sindaco nel momento in cui me ne sarà data la possibilità però non lo vorrò fare prendendo i soldi dalle tasche dei cittadini perché i progetti che sono stati portati avanti in questi anni dal centro-sinistra il primo di Luciano D'Alfonso e il secondo di questa amministrazione che non è arrivato neanche alla fine oltretutto ma quello di Luciano D'Alfonso e questo prevedevano comunque l'esproprio di tutte le aree centrali e dei parcheggi centrali per assegnarli ad un privato che avrebbe gestito e che gestirà per 20 anni questa realtà io invece io penso che dal giorno dopo in cui dovesse diventare sindaco andrò in regione a chiedere al presidente della giunta regionale altri 12 milioni di euro per realizzare il parco centrale di cui Pescara ha bisogno con un segno identitario forte che sia da attrattiva per la nostra città perché noi abbiamo un centro commerciale naturale non lo dimentichiamo che fa da pulsione economica per tutta la realtà cittadina perché lì lavorano migliaia di persone e producono economia per la nostra per la nostra città e quindi è importante avere un polo di attrazione nell'area di Risulta oltre che parcheggi e il parco centrale per far sì che tutte le attività dell'area centrale possano comunque usufruire delle persone che arriveranno in centro questa è una realtà che noi dobbiamo creare concretamente ma non dobbiamo dimenticare che Pescara ha bisogno di verde e questo verde sicuramente potrà essere costruito ma non dovrà essere fatto soltanto nell'area centrale ma anche nella zona ord e riqualificare tutto il parco d'Avalos per renderlo veramente fruibile e soprattutto collegato con il mare con un grande parco lineare della costa che arrivi fino al ponte del mare Teodoro non ce l'avete fatta ad approvare il progetto in extremis anche per colpa dell'Alessandrini che poi sentiremo ma perché è importante invece in qualche modo riqualificare al più presto quest'area di Risulta metterla come priorità della sua nuova amministrazione tra l'altro semplicistimo non capisco i colleghi che si arroventano proprio su questi ragionamenti e di una semplicità unica lo dico ai pescaresi noi se sarò eletto sindaco realizzerò qualcosa che mai prima Pescara ha visto e cioè chiederò a tutte le regioni d'Italia di costituire il cosiddetto giardino d'Italia con al proprio interno le essenze arboree quelle autocne che ogni territorio ha e lo si fa a costo zero perché per il Piemonte per la Lombardia per la Sicilia per la Sardegna chi parteciperà avrà una versina gratuita nel cuore della città e questo diventerà un modello che si legherà tantissimo come ho detto prima in quella parte di territorio periferico a sud della città con la costruzione con la realizzazione della fiera fioristica del fiore quindi due elementi che si legano in maniera straordinaria con attività di ristoro al proprio interno per ogni regione con dei percorsi dedicati e su questo poi ogni anno lanceremo anche una sorta di premio per capire chi meglio delle regioni riesce a tenere come dire o a servire un progetto che sia in linea con i temi del momento e quindi diventerà un premio tematico detto questo lo si fa a costo zero quindi avremmo le aree di risulta che sarà un giardino d'Italia con a sud e a nord due silos che possono essere ben rivestiti come accade nel centro di Vienna dove nel cuore della città vi è un parcheggio a silos rivestito che nessuno se ne accorge va bene lo facciamo anche a Pescara con costi limitati perché andiamo in superficie e non andiamo sotto dove c'è l'acqua con i parcheggi interrati che costano quattro volte di più la gestione sarà in capo alla società di Pescara Parcheggi quindi un costo chiaramente già contenuto all'interno del bilancio comunale in più come dicevo prima con la realizzazione dei parcheggi a nord noi daremo la possibilità soltanto ai pescaresi di entrare in quel parcheggio e chi proviene dall'asse di penetrazione oves cioè da Spoltore Pianella Cappelle Montesilvano Moscufo per cui loro possono entrare direttamente nelle aree di risulta ridaremo alla città ai pescaresi quindi che potranno muoversi tranquillamente con le loro automobili tenendo fuori nella cintura della città coloro che provengono da altri territori metteremo a servizio dei bus navetta elettrici quindi ecologici che si muoveranno con una facilità estrema da sud da nord della città e ridaremo respiro e spazio a questa meravigliosa città quando Baldini diceva mi piacerebbe ricostruire la rotonda con l'orologio con i fiori bene faremo non una rotonda ma faremo un parco nel cuore della città dove ci saranno i migliori fiori d'Italia e dove da tutto il mondo potranno venire a guardare a osservare e ad apprezzare le qualità di questo paese bene è una proposta insomma non so se c'era anche questo dell'orto botanico tra le decine di migliaia di emendamenti che non c'era eric alessandrini ha ricevuto dai cittadini per affossare questo progetto insomma per vincere questa battaglia in consiglio comunale ma insomma al di là dell'aspetto diciamo demolitivo di questa proposta c'è anche una scelta costruttiva da parte vostra il Movimento 5 Stelle se doveste trovarvi a governare la città per aggredire questo tema e trasformare queste aree di risulta assolutamente sì ovviamente la questione non è stata una battaglia di consiglio comunale che di cui ci arroghiamo la vittoria abbiamo sempre sostenuto che la vittoria è stata di tutta la città che ha partecipato e si è mossa ha alzato la testa e si è attivata per impedire la svendita delle aree di risulta ad un privato per impedire che si arrivasse a dover pagare 9 euro al giorno per lasciare la macchina in centro il Movimento 5 Stelle ha fatto da opposizione quello che farà anche al governo della città cioè puntare sulla partecipazione della cittadinanza quando ci sono state le varianti generali al piano regolatore sono arrivate in consiglio comunale al massimo 600 osservazioni le osservazioni sono proprio un metodo che permette ai cittadini di potersi esprimere rispetto alle varianti che il consiglio comunale delibera ebbene 600 osservazioni quando si trattava dei terreni privati di tutta la città quasi 5000 osservazioni quando si è trattato dell'area di risulta questo dimostra che è un tema caro alla cittadinanza e che i cittadini vogliono essere coinvolti quando si parla di scelte strategiche ed è quello che farà il Movimento 5 Stelle perché se la domanda che si ripete da 30 anni è che cosa si fa nelle aree di risulta è perché le risposte della politica sono sempre le stesse scelte solo dalla politica e con la volontà di trovare tutte le soluzioni le mancanze le risposte che la città deve avere tutte devono essere concentrate solo e soltanto nell'area di risulta in quei 13 ettari in centro allora dobbiamo invece prendere la consapevolezza che la città di Pescara ha molte più aree su cui lavorare sempre strategiche e quindi faccio riferimento all'area dell'ex cofa sul lungomare faccio riferimento al cosiddetto P7 piano particolareggiato 7 dell'ex fonderia Camplone parlo delle aree del fiume quindi di tutta la zona che si trova sulle coste del fiume bene sono tutte aree strategiche da mettere a sistema in un master plan generale e ognuna di queste dovrà avere una vocazione c'è la vocazione del parco certamente c'è la vocazione della mobilità ovviamente c'è quella dei parcheggi assolutamente sì c'è anche l'idea del teatro del centro culturale della città che da sempre risulta una mancanza per il tessuto locale ebbene con la città quindi insieme ai cittadini attraverso un percorso di partecipazione che si fa con dei professionisti quindi non si improvvisa la partecipazione abbiamo visto un piano generale del traffico che ha visto la partecipazione di 12 cittadini su quasi 120.000 la partecipazione si fa con dei professionisti che mettono intorno a un tavolo tutti i portatori di interesse e di necessità quindi i cittadini i semplici residenti i commercianti gli imprenditori gli artigiani coloro che lavorano in centro anche coloro che vengono da fuori gli enti pubblici quindi bisogna unirsi intorno a un tavolo tirare fuori i problemi e la risposta della politica deve essere quella che viene quindi come dire adottata da tutta la comunità che sente quel progetto come proprio lo faremo con un masterplan con dei tempi precisi da attivare quindi anche questo dall'inizio della nostra amministrazione per risolvere finalmente la questione dell'area di risulta e di tutte le altre aree strategiche che la città ha a disposizione grazie a Erika Alessandrini grazie ai candidati sindaci per aver raccolto l'invito di Rete8 ad aprire nei nostri studi sostanzialmente la campagna elettorale da adesso in poi si comincia a trottare nei quartieri incontrando i cittadini avendo molte opportunità io posto soltanto le prime tre domande ne porrò altre nelle prossime tribune elettorali dei venerdì 10 e 24 maggio nei quali sarete nuovamente invitati nei nostri studi per man mano che la campagna elettorale entra anche nel vivo poi inquadrare anche altre singole questioni grazie a tutti voi buona campagna elettorale comunque sarà il sindaco di Pescara sarà un buon sindaco perché insomma la qualità di questa trasmissione lo ha dimostrato e grazie soprattutto ai nostri telespettatori ci vediamo venerdì prossimo con la tribuna elettorale curata dal collega Fabio Lussoso in cui conosceremo più da vicino i tre candidati sindaci di Montesilvano sempre alla stessa ora alle 20.30 arrivederci a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori